Buonasera a tutti, io sono Tommaso Perrone, direttore di Livegate, un network di informazione che da oltre vent'anni si occupa di diffondere consapevolezza proprio sui temi di sostenibilità, in particolare ambiente, clima, energia, ma ormai tutto ciò che ruota intorno alla sostenibilità, facciamo anche percorsi per le aziende, per le ONG, per gli enti, proprio per aiutarli in un percorso di sviluppo sostenibile e questo ciclo di incontri, in particolare questo è il terzo appuntamento, dal titolo appunto La Rivoluzione Naturale, adesso capiremo anche meglio perché, fa parte appunto di un ciclo di quattro incontri in realtà che dalla COP28 ci porteranno fino alle elezioni europee dell'8 e del 9 giugno. I primi due incontri sono stati, diciamo così, catalizzati da due temi fondamentali, come ovviamente la scienza che ci deve essere dietro alla questione climatica e il secondo invece la comunicazione, perché ovviamente di clima se ne parla, ma spesso poco e male. Peraltro potete recuperare, per chi non è stato, per chi non è potuto venire a questi due primi incontri, le puntate sui canali YouTube e SoundCloud del Circolo dei Lettori. L'ultimo appuntamento invece è per il 21 maggio, ma poi di questo parleremo meglio più avanti. L'episodio, diciamo così, perché così mi piace chiamarli, visto che questo ciclo di incontri è ispirato a un newsletter che seguo, che si chiama Il Clima Tariano e che da diversi anni ormai invio tutti i martedì regolarmente, come del resto si tengono questi incontri, potete peraltro iscrivervi su livegate.it slash newsletter, trovate questa e anche altre. Questo terzo appuntamento è dedicato a un aspetto molto concreto, cioè agli ingredienti che servono per fare effettivamente la transizione ecologica che ci viene chiesta per fondamentalmente uscire da questa crisi in cui siamo letteralmente immersi. Peraltro per chi c'era la volta scorsa, domani è l'otto del mese e quindi arriverà puntuale un nuovo bollettino di Copernicus che ci dirà quanto ha fatto su questo pianeta anche ad aprile 2024. I due ingredienti sono i soldi e la forza di volontà fondamentalmente. E per parlare di questo, quindi quanti soldi servono e la mentalità, l'approccio che ognuno di noi dovrebbe avere per affrontare la transizione, abbiamo due ospiti di tutto rilievo, in particolare alla mia sinistra il prof Mario Calderini che è appunto professore della School of Management del Politecnico di Milano ed è stato già anche membro dell'Advisory Board e consigliere del precedente governo, quindi del Ministero per l'Innovazione guidato da Colau e per le infrastrutture e la mobilità sostenibile invece di Enrico Giovannini che sappiamo essere uno dei rappresentanti di punta della sostenibilità in Italia e poi invece collegata, non so se la possiamo già vedere, dalla Spezia, eccola, Chiara Lombardi ricercatrice dell'Enea, esperta in particolare di biodiversità e di tutto quello che è un po' il mondo marino diciamo così legato soprattutto agli oceani, al polmone blu e vedremo anche qui perché gli oceani in qualche modo sono rappresentativi della mentalità anche a volte sbagliata che abbiamo nei confronti della transizione quindi anzitutto grazie mille di essere qui, di essere venuti, buonasera e benvenuto professore buonasera e grazie mille Chiara Lombardi per aver accettato l'invito nonostante appunto la distanza ciao, grazie mille a voi partiamo subito con una domanda direi molto sostanziosa in tutti i sensi perché io chiederei subito al professor Calderini di parlarci di soldi e quindi fondamentalmente si parla spesso di una transizione ecologica da prima che poi si porta dietro tutte le altre livelli di transizione energetica e non solo e spesso ci si riferisce a tutto ciò come se fosse qualcosa di costoso qualcosa che ha bisogno di un ingente investimento economico per essere portato avanti però effettivamente non sappiamo mai quantificare ne parliamo sempre in astratto e quindi la domanda che le faccio in particolare è quanto costa la transizione ecologica sia in termini assoluti ma poi anche in termini mi viene da dire relativi perché effettivamente abbiamo visto che in una crisi già in atto ci sono tanti soldi che già vengono spesi non tanto per fare la transizione quanto per affrontare delle emergenze che ormai sono più che quotidiane certo grazie, un pomeriggio allora diciamo l'espressione è una transizione ai ricchi appunto viene usata ma vedremo che non è esattamente così cioè è esattamente così solo in un senso che oggettivamente ci vorranno tantissimi soldi per contenere le emissioni che poi sono la causa principale del cambiamento climatico dell'aumento della temperatura che è ciò che più direttamente genera dei danni ci vorranno tantissimi soldi e da questo punto di vista se questa è l'interpretazione di ricchi sicuramente non è esattamente così per altre due ragioni una perché i costi del non fare sono costi molto alti tanto per dare un ordine di grandezza diciamo la stima è che tra il 2000 e il 2019 circa 150 miliardi all'anno se ne siano andati in costi legati a grandi catastrofi a piccole catastrofi a tutto ciò che ha a che fare col cambiamento climatico e più in generale con la non prevenzione no no 150 miliardi medio in ogni paese se vogliamo restringere un po' l'analisi i 55 paesi considerati più vulnerabili hanno avuto un conto in questo ventennio di circa 500 miliardi di spese dove naturalmente è una cifra abbastanza piccola cumulativamente ma è enormemente elevata no 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 per i 55 paesi stimata conservativamente guardando solo l'impatto legato alle catastrofi quindi diciamo il non fare ha avuto dei costi enormi li avrà esponenzialmente nei prossimi anni se si continuerà con le traiettorie del non fare niente oppure sappiamo già che non basta ciò che stiamo facendo ma non solo non basta non è neanche vero del tutto che lo stiamo facendo cioè gli impegni presi che mettono il pianeta su una traiettoria di riduzione delle emissioni non basterebbero se fossero fatti tutti ma sappiamo che non tutti gli impegni sono rispettati l'ordine di grandezza adesso io avevo forse anche qualche grafico per dare dei dati più accurati ma diciamo l'ordine di grandezza è un ordine di grandezza di qualche ordine superiore per portare la riduzione ecco queste sono le traiettorie noi dovremmo avere delle riduzioni che corrispondono sostanzialmente a un contenimento dell'aumento della temperatura in quei termini quella rossa è se continuiamo così quella gialla è impegni già presi se fossero veri quella verde è che cosa stiamo facendo realmente senza onorare esattamente tutti gli impegni e quindi diciamo come adesso al di là dei numeri spiccioli come capite la distanza tra i traiettori augurabili che gli scienziati ci dicono essere diciamo quello a cui dovremmo arrivare prima al 2030 ma soprattutto al 2050 con l'obiettivo net zero quindi di zero emissioni nette ecco capite che diciamo stiamo parlando di almeno un ordine di grandezza diverso di impegno e di diciamo seria tentativo di invertire la rotta cosa che va fatta diciamo che questa è un'opinione abbastanza unanime naturalmente contestata sappiamo che su questo c'è moltissimo dibattito diciamo io sono abbastanza convinto che ascoltare gli scienziati la scienza ortodossa in questo caso sia l'unica cosa seria che si può fare quanto ci vuole allora per fare quanto ci vuole ci vogliono diciamo così un sacco di soldi questo scusate io devo capire ecco questo allora quanto ci vuole io ho scelto una delle tante stime fatte da uno degli istituti di ricerca più importanti ci sono di nuovo tantissime stime anche molto diverse ma non perché siano sbagliate o fatte male semplicemente perché ovviamente il perimetro del problema è un perimetro non molto facilmente definibile quindi per molti questo è un diciamo è la ragione per cui abbiamo stime diverse ma diciamo sostanzialmente e anche qui ho scelto questo perché forse è il grafico più d'impatto qui stiamo parlando di migliaia di miliardi l'anno quindi stiamo parlando di trilioni questo quello che vedete in basso è quello che diciamo una stima molto realistica della finanza che era fluita tra il 2021 e il 2022 la proiezione che nel 2022 e 2023 abbiamo visto essere piuttosto accurata di ciò che ci vorrebbe è quella invece della fascia di verde più chiaro dove più o meno stiamo parlando di 6 mila miliardi all'anno canalizzati verso investimenti che colgano gli obiettivi di adattamento al cambiamento climatico e di mitigazione al cambiamento climatico e poi dal 2030 circa 7 mila miliardi quindi qual è il punto il punto è che questa è una cifra che esubera largamente dalle possibilità di sostegno dei governi perché i governi sapete che hanno preso degli impegni dell'ordine di circa dei 100 miliardi all'anno siamo molto molto lontani e anche diciamo di tutto ciò che non è governo ma è multilateralismo delle grandi organizzazioni internazionali il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale che anche loro contribuiscono la Banca Mondiale con qualche decina di miliardi di euro ma ancora lontanamente quindi la grande questione è quale sarà il coinvolgimento della finanza privata e che noi dovremmo trovare e la grande strada di lavoro che c'è in questo momento è diciamo sono forme di partenariato pubblico privato che in qualche modo consentano di mettere a disposizione queste risorse perché senza l'alleanza del settore privato non ci riusciremo questa questione è molto problematica è molto problematica perché molti credono che ci siamo già riusciti e anche qui il dato che dobbiamo mettere vicino a questo è che la stima che noi abbiamo è che più o meno tra 40 la fa Bloomberg questa stima tra 40 e 45 mila miliardi di dollari quindi tra 40 e 45 trilioni oggi siano gli investimenti del settore privato cosiddetti ESG gli investimenti ESG vuol dire Environment Social and Governance sono gli investimenti che vanno diciamo al grande capitolo della sostenibilità e di cui dovete considerare che per varie ragioni un buon 80% va all'ambiente e al contrasto climatico quindi diciamo probabilmente la finanza privata crede e molti di noi credono di stare già mettendo sul piatto 30 mila miliardi di euro all'anno se fosse vero avremmo risolto il problema perché avremmo abbastanza soldi e cominceremmo a vedere un'inversione di rotta non la vediamo e questo credo che sia uno dei fenomeni più pericolosi che abbiamo davanti perché il mondo privato non neanche non si è ingaggiato si è ingaggiato ma con degli strumenti molto molto pallidi molto poco incisivi spesso legati al greenwashing cioè al dipingere di verde e di climatico investimenti che si stavano già facendo e che non hanno nessuna capacità trasformativa quindi mancano tanti soldi va ingaggiata la finanza privata per adesso l'abbiamo ingaggiata in un modo che non funziona tanto quindi la domanda che mi viene da fare è questi 30 ha detto giusto mila miliardi alla fine una buona parte dei 45 o mi viene da dire come vengono spesi se non vengono spesi nel modo giusto o se magari erano già investiti e semplicemente gli viene messo allora direi tutte e due le cose cioè tantissimo è proprio rebranding si attacca se oggi voi andate a vedere le grandi banche italiane hanno preso dei fondi di credito di finanziamento che già avevano e erano rietichettate come verdi perché ovviamente la battaglia finanziaria per la sostenibilità è una battaglia che si è giocata diciamo soprattutto negli ultimi dieci anni ed si è basata molto su come dire sull'evangelismo sul stimolare allora le imprese hanno risposto ma hanno risposto in un certo senso le imprese e naturalmente i fondi di investimento hanno risposto in maniera un po' leggerina cioè hanno scelto fior da fiore quegli obiettivi che erano ambientali ma non intaccavano di una virgola il profitto tutti quelli che sarebbero stati più profondi più trasformativi ma in cui bisognava un po' mettere in discussione anche il profitto invece non sono stati fatti quindi diciamo io credo che nell'ingaggiare la finanza privata serva molto più radicalità è evidente che la finanza privata e soprattutto le imprese ma anche la finanza risponderà moltissimo alle evoluzioni dei gusti dei consumatori perché il grande ostacolo è che in questo sistema sono due cose che coevolvono l'offerta di prodotti di servizi di prodotti finanziari e la volontà di acquistarli dei consumatori quindi le due cose cresceranno nel momento in cui ci sarà anche una trasformazione dei modelli di consumo e dei modelli culturali insomma questo non sta a me a discuterlo tra l'altro appunto ha già messo sul piatto proprio quello che è il secondo diciamo così argomento che andrei un attimo a vedere proprio con Chiara Lombardi invece perché abbiamo parlato di soldi ma probabilmente senza la volontà di spenderli nel modo corretto probabilmente non si va da nessuna parte però è vero anche il contrario cioè che se abbiamo la volontà di fare le cose diciamo la mentalità ma manchiamo di portafoglio altrettanto non si va da nessuna parte ed è proprio su questo che vorrei fare la prima domanda a Chiara Lombardi perché appunto quando parliamo soprattutto di transizione spesso e volentieri cerchiamo soluzioni tecnologiche innovative al di fuori della natura magari inventandoci cose che non esistono quando in realtà è proprio nella natura che molte delle risposte ci sono molte dei dei servizi ecosistemici sono già a disposizione producono già tantissime soluzioni di cui noi non siamo neanche a conoscenza però è proprio quello che ci manca è un approccio una mentalità positiva verso la natura in modo tale da capirne il valore e quindi farne nostra alleata piuttosto che di entrarci in competizione e parlando appunto con Chiara di recente anche proprio per organizzare questo incontro uno spunto è stato quello legato proprio agli oceani il modo in cui noi trattiamo gli oceani che in qualche modo è come se trattassimo come se fosse il tappeto della nostra coscienza diciamo così dove immergiamo tutto quello che non vogliamo vedere e facciamo finta che è risolto altrettanto è un po' quello che poi ci contraddistingue quando dobbiamo effettivamente agire per la transizione però io lascerei a Chiara appunto anche un po' portare avanti questa metafora perché secondo te e secondo poi ovviamente anche quello che ci riguarda da vicino gli oceani possono essere un po' questo simbolo della necessità di cambiare mentalità nei confronti della natura e non solo per far sì che la transizione diventi realtà al più presto possibile Ciao allora buonasera a tutti e grazie mille di questa bella opportunità allora diciamo parto dallo spunto che è stato un po' lo spunto iniziale del nostro dialogo quando bisogna affrontare problemi di cambiamento io quello che dico sempre anche nel nostro lavoro come ricercatori qui insomma nella zona di Spezia è il punto di vista che dobbiamo cambiare è un punto di vista in cui noi adesso parliamo di problemi giustamente parliamo di economia con il professore vediamo quali sono le diverse risorse anche la tecnologia che può arrivare è tutto veramente molto e sempre antropocentrico quindi una visione in cui tutto parte dall'uomo a me piace ovviamente essendo un ricercatore studiando gli oceani rapportarmi con quella che è la natura in generale in particolare con il mare quello che dico sempre quando faccio gli interventi in tavole come queste è che se noi dobbiamo un attimo astrarci immaginare di vedere la terra da fuori dallo spazio se noi la vedessimo da fuori ci renderemmo conto di non essere visibili e che la nostra terra è dominata fondamentalmente dal mare e dagli oceani e questo non è un caso perché la nostra sopravvivenza stessa dipende dal mare dipende dalla natura in generale e dipende chiaramente dagli oceani esiste una strettissima connessione tra tutti questi argomenti che sono sul tavolo oggi che riguardano chiaramente l'uomo riguardano gli ecosistemi e riguardano l'oceano avevo la mia prima slide forse se volete mostrarla che riassume un po' quella che è l'interconnessione che esiste tra questi diversi settori e come di fatto l'azione da una parte l'azione degli ecosistemi e l'azione dell'oceano è quella che regola naturalmente il clima quindi il clima della nostra terra è determinato dagli oceani fondamentalmente quindi da fenomeni tipo naturale e dalla presenza dell'oceano stesso e il più grosso ecosistema terrestre è rappresentato da quello che è sommerso quindi quello che si trova in un ambiente che noi ahimè non possiamo vedere per il quale non siamo stati creati però di fatto questo enorme ecosistema è quello che alimenta tutto da una parte ha un'azione importantissima in quello che è l'assorbimento della CO2 quindi se noi pensiamo che oltre il 25% della CO2 che è presente in atmosfera viene assorbita dal mare il mare rappresenta un enorme pozzo fondamentalmente in cui la CO2 finisce e assorbe la temperatura oltre il 90% della temperatura e del clima del pianeta sono regolati dagli oceani quindi di fatto sono una risorsa enorme e tutto questo è determinato proprio dalla presenza degli ecosistemi stessi se noi pensiamo alla CO2 un esempio rappresentato da per esempio organismi calcificanti quali i coralli abbiamo in mente adesso in questi giorni purtroppo c'è stato questo grossissimo evento di bleaching che sta interessando tantissime aree del mondo quindi dall'Australia a diciamo zone tropicali io sono stata di recente sarebbe un sbiancamento quindi intendi esatto lo sbiancamento dei coralli questo sbiancamento è determinato fondamentalmente dalla morte delle zoxantelle i coralli tropicali sono coralli cosiddetti ermatipici quindi hanno un rapporto di simbiosi tra l'animale e l'alga perché vivono in ambienti molto poveri di nutrienti differentemente per esempio nel nostro mar Mediterraneo con mare estremamente ricco quindi i coralli che noi abbiamo ad eccezione di una specie sono tutti i coralli che non hanno una simbiosi con le zoxantelle e queste alte temperature hanno portato di fatto alla morte delle alche che vivono all'interno dei coralli che quindi ne determinano un nutrimento ed è un evento massivo che è determinato chiaramente d'eventi climatici qual è il ligno e i colleghi di fatto lo aspettavano quindi diciamo che l'azione diciamo dell'oceano è un'azione assolutamente fondamentale importantissima e la ricchezza che noi abbiamo sotto gli oceani è quella che ci permette dai microrganismi quindi gli organismi del fitoplancton che sono quelli in grado di fotosintetizzare e quindi di fatto di assorbire la CO2 e di rilasciare ossigeno a organismi profondi che vivono per esempio i coralli profondi o anche altri tantissimi organismi che rappresentano una fonte fondamentale per il nostro mare anche per l'economia pensiamo molto semplicemente ai molluschi alle cozze che noi mangiamo questi organismi sono organismi calcificanti che per costruire il loro scheletro e la loro conchiglia assorbono la CO2 quindi le funzioni degli organismi marini sono tantissime veramente tante e forniscono quelli che tu citavi prima Tommaso che sono di fatto i servizi i servizi ecosistemici quindi bisogna cercare di capire che il nostro ruolo anche in relazione all'oceano è un ruolo fondamentale perché come stavamo dicendo prima con i grafici che ci ha fatto vedere il professore quello che è l'impatto dell'uomo sul pianeta e di conseguenza sugli oceani è fortissimo e dobbiamo renderci conto che noi siamo parte di un sistema quindi è vero che stiamo impattando ma noi abbiamo anche il dovelo e la responsabilità e dobbiamo comprendere che possiamo invertire questa rotta chiaramente non è una cosa che verrà immediatamente però come si diceva prima anche dal punto di vista economico ma soprattutto da un punto di vista comportamentale noi dobbiamo veramente invertire la nostra rotta renderci conto di essere parte di un sistema questo sistema lo dobbiamo conoscere ne dobbiamo conoscere le potenzialità si parla di mitigazione al cambiamento climatico quindi l'assorbimento della CO2 da parte di forme di tecnologia anche gli stessi ministeri i governi tutto il mondo chiedono di trovare soluzione ebbene le soluzioni sono anche tecnologiche perché abbiamo bisogno di accelerare questi tempi ma le soluzioni sono nella natura quindi conoscere questi ecosistemi che sono presenti cercare di preservarli e cercare di ripristinare una naturalità in ambienti che oggi sono fortemente impattati questa è una delle diciamo dei comportamenti che dobbiamo cercare di adottare dal singolo cittadino quindi dalla nostra dalla nostra quotidianità e anche facendo passare questi messaggi a chi gestisce territori naturalmente su questo peraltro appunto soluzioni basate sulla natura è anche proprio un acronimo inglese che ci fa capire quanto in realtà è già diciamo così a disposizione di tutti conoscere e sapere quali sono le soluzioni che dovremmo adottare ce ne sono una più di altra hai parlato ad esempio dell'assorbimento piuttosto che altre attività su cui effettivamente anche a livello tecnologico la cattura stoccaggio della CO2 anche ultimamente se ne sente parlare sempre di più in riferimento alle grandi centrali ad esempio se non abbiamo ancora abbandonato ufficialmente il carbone perché negli ultimi trattati sul clima ma anche adesso al G7 si è messa questa postilla soltanto le centrali a carbone che avranno dei sistemi di cattura e stoccaggio della CO2 potranno continuare a funzionare ecco in realtà guardando alla natura queste soluzioni sono già a disposizione e non vengono in alcun modo almeno per ora valorizzate ci sono degli esempi dei casi concreti che ci puoi raccontare ma guarda un esempio concreto su cui noi stiamo lavorando abbiamo lavorato e tra diciamo un paio di giorni sarò tra rappresentare tra gli enti di ricerca e quindi a dialogare con il ministero è l'importanza per esempio della molluscicoltura in Italia quello che vi dicevo prima le cozze piuttosto che le vongole piuttosto che anche le ostriche sono tutti degli organismi che a livello naturale sono in grado di utilizzare la CO2 che è presente in acqua per costituire il loro scheletro quindi la loro conchiglia qual è il problema innanzitutto vabbè la molluscicoltura è una forma di diciamo di allevamento estremamente sostenibile in ogni caso quindi diciamo può essere migliorata da un punto di vista per esempio della gestione della struttura che tratta poi chiaramente i molluschi piuttosto che le barche si potrebbe convertire all'elettrico quindi lavorare su un discorso di sostenibilità maggiore delle aziende che allevano i molluschi ma l'azione del mollusco stesso in termini naturali quindi la sua crescita il suo sviluppo è un fenomeno del tutto naturale che cosa succede? Succede poi che chiaramente il mollusco viene preso viene allevato e i gusci quelli che non vengono utilizzati vengono scartati bisogna ragionare in questo senso e dire insomma queste che sono fondamentalmente delle pietre dobbiamo immaginarle anche come delle porzioni di barriera corallina noi non ci sogneremo mai di andare a togliere delle porzioni di barriera corallina e tirarle fuori dall'acqua è un po' la stessa cosa che si può fare con i gusci dei molluschi questi possono essere riutilizzati e ideando quello che dicevi tu prima delle cosiddette NBS o Nature Based Solution quindi soluzioni basate sulla natura che riutilizzano di fatto quello che viene oggi considerato uno scarto quindi cambiamo una visione cambiamo una mentalità che può essere riutilizzata per un'applicazione differente quali? per esempio la tridimensionalità dei gusci può servire a rigenerare delle aree del porto che sono per esempio delle aree fortemente impattate dove una volta come nel caso di La Spezia cresceva la posidonia oceanica che è un polmone verde del nostro mare quindi una pianta vera e propria una tanerogama marina oggi non c'è più a causa del forte impatto legato alla costruzione del porto legato al movimento delle navi alla forte sedimentazione che naturalmente ha impoverito alcune aree ebbene l'idea adesso non è nostra ma è un'idea è la spinta che viene a livello mondiale quella di cercare di ridurre naturalmente l'emissione quindi la riduzione dell'emissione deriva anche dalla rigenerazione di aree perché dove abbiamo la biodiversità quindi abbiamo una maggiore diversità abbiamo maggiore ricchezza abbiamo funzionalità degli ecosistemi che vuol dire animali vuol dire vuol dire vegetali e quindi vuol dire tutta quell'azione che noi viviamo anche a livello terrestre quando immaginiamo l'assorbimento di CO2 immaginiamo le piante ebbene le piante ci sono anche sott'acqua ci sono alghe ci sono vere e proprie foreste come dicevo prima di fanerogame marine quindi che cosa bisogna fare bisogna ingegnarsi e quello che noi oggi lo vediamo come scarto come diciamo un qualche cosa che deve essere eliminato e che di fatto produce emissioni di CO2 perché ricordiamo che la rimozione dei gusci per esempio dalla molluschicoltura lo smaltimento fa sì che vengano fatte delle emissioni queste stesse emissioni possono essere risparmiate trovando delle nuove soluzioni grazie mille Chiara e tra l'altro appunto proprio questo mi dà un po' in là anche alla seconda domanda che mi sembra quella forse un po' più calda in senso più di attualità perché appunto Chiara diceva paradossalmente alcune soluzioni alcune nostre alleate che possono essere dentro fuori dal mare oggi vengono considerate come scarto altrettanto la sostenibilità come ideale all'inizio degli anni 2000 diciamo così era come qualche cosa che univa anche se non si era volontari attivisti di organizzazioni da Greenpeace in avanti comunque tutte le campagne che in qualche modo portavano avanti erano viste con favore oggi questa cosa non è più così cioè è come se si fosse creata una spaccatura all'interno della società non soltanto a livello politico ma anche proprio tra i cittadini come quasi se il tema della sostenibilità in qualche modo potesse essere divisivo e questo nonostante tra l'altro siamo passati da un momento di pandemia che per un certo periodo ci aveva quasi anche fatto capire quanto fosse necessario invece un approccio a uno sviluppo che fosse non lineare ma circolare quindi sostenibile a prescindere poi dalle cause reali del virus e il salto di specie e quant'altro cosa che peraltro è stata dimenticata velocissimamente e anzi oggi mi sembra quasi che sia peggiorata la situazione rispetto al periodo pre-pandemia dove si è rotto questo momento diciamo così di amore appunto che si è avuto nei confronti della sostenibilità e dove invece è diventato qualcosa di controverso di divisivo addirittura a livello politico ormai sì il tema si è politicizzato per fortuna da un lato purtroppo da un altro direi questo gli anni a cui facevi riferimento sono stati anni di grande entusiasmo perché era una partita un po' importantissima ma marginale rispetto all'occupazione degli organi di comunicazione si è fatto un grandissimo sforzo di advocacy di presa di consapevolezza e su questo si è riusciti che errore si è fatto a mio parere anche con qualche responsabilità dell'attivismo ambientale si è fatto l'errore di non prevedere che quando le cose sarebbero diventate serie dure cioè che avrebbero comportato delle scelte delle rinunce dei sacrifici non era detto che questo clima così un po' di di liaco di alleanza rispetto a questo obiettivo che molti percepivano come astratto invece avrebbe comportato ancora oggi c'è un largo pezzo dell'industria che pensa che alla fine come possiamo andare ancora avanti parecchio nello stesso modo nelle stesse stanze negli stessi minuti in cui si racconta sostenibile verde quindi questo è un problema la vera questione il punto in cui si è rotto tutto è che ha cominciato a lacerarsi il rapporto tra ricchi e poveri e a creare dei conflitti tra ricchi e poveri a livello di paesi questo c'è sempre un po' stato ma a livello geopolitico di paesi diciamo hanno talmente una voce più forte quelli ricchi che diciamo si è colta poco il problema che oggi nel tessuto sociale e anche nel tessuto dell'occidente si è creata questa lacerazione che è una lacerazione paradossale perché lasciatemi chiamare i poveri o i deboli vivono un paradosso straordinario perché noi sappiamo che i deboli sono quelli che pagheranno il costo più alto qualunque forma di debolezza i più poveri di sicuro le donne anche qui stime che vengono fatte diciamo che non hanno il pregio della precisione ma certamente danno ordine di grandezza a livello mondiale oggi diciamo la stima è che di 100 persone impattate negativamente dal cambiamento climatico 80 siano donne e che da qui al agli anni del del net zero circa 158 milioni di donne in molti meno uomini saranno spinti sotto la soglia di povertà naturalmente le persone con dei problemi di salute le persone che vivono in posti sfortunati del mondo qualunque forma di debolezza è quella che paga il più alto conto quindi nel lungo periodo nel medio periodo alla fine della transizione il contrasto al cambiamento climatico sarà anche un'azione pro sociale di contributo all'uguaglianza il problema è che queste stesse persone che più avrebbero da guadagnare poiché sono le persone che subiscono più costi e che hanno meno risorse sono anche quelle più sensibili al costo che è imposto dalla transizione e quindi sono anche quelle oggettivamente più avverse più riluttanti che non appena la lotta al cambiamento climatico incide per esempio l'occupazione l'opportunità di lavoro incide sul budget di spesa ovviamente hanno una reazione innanzitutto di conservazione e protezione delle loro possibilità di sopravvivenza materiale ed è molto difficile lavorare culturalmente come diceva Chiara su questo aspetto è chiaro che uno che deve fare 5 km per approvvigionarsi d'acqua a piedi il problema se la tanica è bioderegradabile o è di plasticaccia non se lo pone tantissimo non è giusto questo però è così è evidente che quando alcune misure di politica colpiscono direttamente l'occupazione le persone si ribellano le persone quelle più vulnerabili dal punto di vista del reddito e l'occupazione è chiaro che succede che appena il governo francese diciamo pensa all'ipotesi di aumentare gli incentivi di abbassare gli incentivi di togliere gli incentivi alle industrie basate sulle fonti fossili i gilets jeunes fanno quello che hanno fatto allora il problema è che appunto noi ci siamo un po' dimenticati a mio parere in quegli anni di grande entusiasmo e di attivismo ci siamo un po' dimenticati che la transizione sociale cosiddetta e la transizione verde o correlata al climate change sono due ruote di uno stesso ingranaggio la velocità a cui possono girare è determinata dalla velocità l'una dell'altra se la transizione sociale non segue con altrettanta rapidità la transizione climatica la transizione climatica rallenta noi abbiamo pensato che forzando spingendo l'acceleratore fino in fondo potessimo accelerare la transizione climatica a un certo punto io ho l'impressione che siamo un po' finiti nella sabbia adesso perché? perché questo montante avversione del contesto sociale di grandi fasce della popolazione sta regalando un consenso politico alla conservazione più populista al populismo conservatore che diventa un problema molto serio non so se sapete per esempio negli Stati Uniti una buona dozzina di stati repubblicani diciamo di stati trampiani per capirci ha impedito per legge alle banche di convogliare finanza seguendo i criteri ambientali cioè la cosa che si fa comunemente in Europa tu sei hai delle performance ambientali legate al cambiamento climatico molto alte ti faccio dei tassi più bassi ti aiuto tiralo così negli Stati Uniti è l'esatto inverso ovviamente in questa fase a cui tu facevi riferimento pre-elettorale questo diventa un problema gigantesco perché oltre agli ostacoli geopolitici e di grandi negoziazioni internazionali che abbiamo visto in tutte le ultime COP abbiamo anche il fatto che elettoralmente ormai c'è una componente di resistenza che ha dei fondamenti reali ovviamente fortemente strumentalizzata però appunto di nuovo se tu vai sotto la diga di Buenemonte che è una delle storie più esemplari di come ci siamo completamente persi il fatto che c'è una rivalità ogni tanto tra cambiamento sociale e cambiamento per il clima tu hai questa centrale su un importantissimo fiume brasiliano che è una delle più grandi centrali idroelettriche che era stata fatta in ottima fede dall'agenzia per l'ambiente brasiliana che ha distrutto la vita dei pescatori che stavano a valle di questa di questa diga ha distrutto l'ecosistema così come il più grande il deserto del Mojave in California c'è il più grande impiatto fotovoltaico del mondo questo impianto fotovoltaico che di nuovo ovviamente rispondeva era in una slide se non sbaglio era in una slide adesso se ci arrivo questa qua questa è la diga ovviamente era stata fatta con le migliori intenzioni così come questo vedete diciamo un parco solare di una discreta dimensione questa roba qua fotovoltaico risponde certamente a un'ottima intenzione pro ambientale ha completamente distrutto la biodiversità nel deserto che non è solo un deserto ma è un ecosistema molto complesso con costi sociali e anche ambientali in questo caso molto grandi allora forse questa cosa qui l'abbiamo maneggiata non benissimo se noi io faccio l'ultimo esempio se noi prendiamo ci sono tre cose della cosiddetta sharing economy che hanno che sono state entusiasticamente celebrate dall'ambientalismo ma da quasi tutti il food sharing perché risparmia cibo che è una cosa meravigliosa il car sharing perché non si producono auto c'è meno traffico e l'airbnb non si costruiscono bene tutte queste tre cose se andate a vederle hanno avuto delle ricadute sociali negative e violentissime il rider di just eat il tipo con la una persona disabile che non può usarlo e vede aumentare il proprio gap di opportunità rispetto alle persone normodotate e poi la violentissima reazione di airb contro airbnb che è stata espulsa dalle grandi città perché creavano delle condizioni di affitto delle case insostenibili costi sociali allora qualche anno fa noi tutti chiunque fosse parte del grande movimento di creazione di consapevolezza queste cose se le perse abbiamo pensato che risparmiare cibo fosse un obiettivo così straordinariamente importante oggettivamente e ci siamo dimenticati di pensare che dovevamo creare dei modelli di business organizzativi un po' più attenti alla parte sociale altrimenti poi la gente il food sharing non lo vuole più sentire e tornando da Chiara Lombardi magari facendo un focus proprio sull'elemento acqua che sappiamo essere dominante sulla terra ci dicevi prima se dovessimo vedere la terra da fuori sarebbe fondamentalmente una sfera blu ecco anche nella salvaguardia diciamo degli oceani o comunque nella protezione delle acque questo elemento sociale secondo te è stato dimenticato oppure no perché ad esempio non so chi lo sa però è stato di recente adottato un trattato sugli oceani chiamato così diciamo un po' colloquialmente poi magari Chiara se ci dice anche meglio di cosa si tratta però è stato in questo momento anche quello un po' messo in stand by effettivamente adesso il Parlamento ha approvato la sua ratifica a livello comunitario però è un trattato che avrebbe dovuto in qualche modo tutelare salvaguardare il pianeta il polmone blu ma ad oggi nessuno stato l'ha ancora ratificato idem successo ad esempio per la Nature Restoration Law che è appunto questa legge per il ripristino della natura che sembrava essere almeno all'inizio in nuce la legge migliore a livello continentale non solo per appunto iniziare quel approccio di ripristino del degrado e quindi riportare la natura ai suoi spazi ed è stato in qualche modo ancora oggi abbandonato comunque sta vivendo un momento di stallo ecco nella protezione dell'ambiente degli oceani to cure quindi proprio in tema ambientale 100% anche lì secondo te Chiara l'aspetto sociale in qualche modo dovrebbe essere più presente per essere più condiviso beh assolutamente sì assolutamente sì noi stiamo facendo abbiamo diciamo attivato una piattaforma di cooperazione a livello locale qui a Spezia che si chiama Smart Bay Santa Teresa e nasce proprio dal voler combinare quelle che sono le esigenze e i bisogni di tutti diciamo di tutti i fruitori di uno specchio d'acqua abbastanza ridotto ma che comunque ha la sua importanza quindi ti parlo della produzione quindi dei molluschi coltori che producono e che rappresentano un'importante fonte dell'economia a livello locale ti parlo di chi gestisce il turismo sostenibile quindi legato al mare l'attività di vela sport e poi la ricerca naturalmente che deve fornire i mezzi e i gestori i gestori quindi sono i comuni nel calzo locale naturalmente ma noi lo possiamo proiettare poi su scala più grande è sempre il solito problema nel senso che a livello politico vengono prese delle decisioni molto spesso anche sulla gestione c'è questa grossissima discussione per esempio in ambito di mare che è la gestione dello spazio marittimo la gestione dello spazio marittimo è un punto assolutamente fondamentale in una zona per esempio come la zona del golfo di Spezia dove abbiamo il santuario dei cetaci abbiamo il santuario Pelagos una gestione di uno spazio marittimo è fondamentale qui da noi abbiamo le navi da crociera che arrivano che gestione abbiamo a livello del porto non abbiamo dei porti che sono ancora sostenibili però si spinge su un turismo che ancora oggi non è un turismo che viaggia verso la sostenibilità quindi verso i principi di cui abbiamo parlato prima a cui si dovrebbe tendere è chiaro che una legge come la natural restoration law è un punto di partenza fondamentale abbraccia quello che sono le idee che vi ho espresso prima che vengono applicate in tantissimi paesi che hanno fatto di questa legge dei pilastri fondamentali ci sono degli stati come la nuova zelanda per esempio come l'australia che hanno tutta una serie di problematiche sociali molto molto importanti ma che hanno da loro la natura è un pilastro fondamentale hanno una conservazione della natura e dell'aspetto diciamo della natura selvaggia perché hanno voglio dire specie molto che devono essere protette e molto molto importante noi che siamo una penisola che è di fatto circondata dal mare abbiamo delle grossissime difficoltà e manca manca dialogo manca la messa sul tavolo di strumenti anche della stessa ricerca cioè il punto di partenza del ricercatore come siamo noi è il fatto di dire acquisiamo dati ma questi dati a che cosa servono quindi quello che noi cerchiamo di fare all'interno della nostra piattaforma di cooperazione è di mettere a disposizione le nostre conoscenze e le idee di soluzioni che possono derivare dalla natura al servizio di chi per il mare ci vive per esempio i produttori vi faccio un esempio veramente proprio concreto questo discorso del cambiamento climatico ha portato a un aumento delle temperature e un abbassamento dei livelli di ossigeno che hanno causato ai produttori dopo tantissimi anni una perdita di oltre il 70% del prodotto questo che cosa vuol dire vuol dire che tantissime famiglie che da generazioni portavano avanti l'attività come mitilicoltore hanno dovuto chiudere perché c'è stato fondamentalmente un'altra attività che è quella dell'acquacultura da cui le orate che vengono allevate che noi prendiamo compriamo al supermercato l'orata d'allevamento sono scappate da questi allevamenti hanno formato dei banchi che sono delle tonnellate di pesce e che arrivano che ovviamente con i livelli bassi di ossigeno diventano fameniche e quindi distruggono la produzione allora bisogna cercare di fare sempre dei ragionamenti condivisi cercare di capire che il cambiamento climatico è un qualche cosa che ha un effetto fortissimo a livello sociale a livello economico sull'economia di chi parte proprio dalla produzione primaria quindi da chi di fatto ci fornisce il cibo e bisogna cercare con le nostre conoscenze di aiutarli di tutelarli e la gestione dei territori quindi dei gestioni politici deve essere tale da avere una serie di elementi che permettono di bilanciare di aiutare chi a livello sociale poi di fatto aiuta aiuta come dire la base la catena a livello commerciale quindi non pensare esclusivamente molto spesso si pensano delle soluzioni semplici quale l'arrivo delle navi da crociera perché portano tante persone portano un impatto sul territorio ma un impatto che non è positivo diventa un impatto massivo che non riesce ad essere gestito e quindi assolutamente sì ci vuole una visione sistemica e ripeto ci vuole una visione che parte anche proprio dalla natura dai ritmi della natura e questo è vero le popolazioni diciamo più in difficoltà del mondo hanno chiaramente altre problematiche sono problematiche che noi abbiamo affrontato nell'arco della nostra storia si tratta anche di livelli di trasformazione e di evoluzione molto diversi però hanno molto spesso una connessione con la natura fortissima che noi non abbiamo più ecco e che dobbiamo in qualche modo cercare di ritrovare questo ultimo spunto mi dà poi la possibilità di fare l'ultima domanda poi capire se ci sono anche delle domande dal pubblico che un po' ci riporta tra i banchi di scuola mi sembra più una domanda da educazione civica però quello che volevo chiedervi a entrambi è a questo punto dopo tutto quello che abbiamo detto stiamo parlando di trilioni di euro o di dollari stiamo parlando di oceani stiamo parlando di cose che sono lontanissime da noi però in qualche modo vengono diciamo così da noi influenzate attraverso forse l'unico strumento che abbiamo che è quello di votare fare pressione attraverso le urne quindi la domanda molto semplice che vi faccio è perché oggi nel 2024 con tecnologia innovazione eccetera perché è ancora importante votare dal vostro osservatorio quindi proprio molto banalmente come si collega il voto dell'8-9 giugno con tutto quello che abbiamo detto come portare a termine questa transizione perché peraltro professore lei prima comunque ha detto quando la transizione sarà ultimata anche molte persone usciranno quindi l'ha dato come certo e già questo è una nota molto positiva cioè la transizione si farà io penso che la transizione si farà e che diciamo quello che stiamo soffrendo oggi è un po' come dire un tormento inevitabile della transizione di una transizione così complicata il riferimento di Chiara alle crociere mi faceva venire in mente una piccola cosa che dico in risposta alla tua domanda di prima su cosa fanno queste imprese che non ci sono state grandi compagnie di crociere che si dichiaravano sostenibili e che interpretavano la sostenibilità che voleva dire che avevano disegnato i pacchetti del pranzo per quelli che scendevano a fare le escursioni in maniera completamente biodegradabile biosostenibile nel frattempo scaricavano tonnellate di gasolio in mare allora finché c'è questa asimmetria non possiamo contare su quella parte di foto allora qui c'è un problema scolastico davvero cioè noi abbiamo due problemi uno che tipicamente rendono asimmetrico dal punto informativo al mondo e quindi fanno funzionare il mondo così così perché se tutti diciamo un minuto prima di andare a votare potessimo toccare con mano le conseguenze dei pasticci che stiamo facendo essendo le persone mediamente molto intelligenti qual è il problema il problema è che sono problemi a impatto lontano tutto ciò di cui parla chiara gli oceani sono lontani non lo vediamo direttamente abbiamo bisogno di qualcuno che ci racconti che cosa vuol dire buttare la plastica nel mare due sono lontani nel tempo e quindi il voto è un po' franzato da questo ed è evidente che i costi di breve periodo spesso sovrastano la decisione di voto dobbiamo dire rispetto al voto che è soprattutto un voto europeo per noi adesso che viviamo in un continente che ha fatto cose straordinarie rispetto al resto del mondo dal punto di vista legislativo per esempio la commissione europea qualche anno fa ha fatto una cosiddetta tassonomia green che cosa vuol dire vuol dire che era un po' stufa di vedere le imprese che dicevano di fare sostenibilità chiamavano verde qualunque cosa e ha deciso di codificare che cosa può essere un sforzo verde un prodotto verde un servizio verde sul serio più molte altre cose quindi diciamo una buona ragione per andare a votare è rinforzare la commissione europea e soprattutto le forze della commissione europea che diciamo hanno spinto in questa direzione oggettivamente almeno gli ultimi due governi europei sono stati molto allineati ai grandi obiettivi in un certo senso se vogliamo essere critici fin troppo perché appunto alcune cose cito l'industria dell'automobile la transizione alla macchina elettrica al motore elettrico la recente normativa sulla casa che impone costi importanti di ristrutturazione ecco sono i tipici esempi di eccessiva accelerazione io credo perché perché immediatamente oggi se lei chiede un'opinione o se legge i sondaggi sull'opinione diciamo delle persone la massa delle persone è un'opinione molto scettica molto preoccupata naturalmente permeata di complottismo di le solite cose che ci sono la stessa cosa appena si capirà che cosa vorrà dire la normativa sulla casa io prevedo una reazione quindi purtroppo in questo in questo momento e nelle prossime elezioni io mi aspetto ancora un risultato un po' deludente da questo punto di vista mi mi aspetto che le forze più conservatrici più populiste siano avvantaggiate da questo momento di disaffezione penso che passerà penso che appunto a maggior ragione sia molto importante andare a votare e andare a votare soprattutto in testa questi temi perché siamo un po' a un punto di svolta se finisce come sta finendo negli Stati Uniti e come probabilmente vedremo a novembre nelle nuove elezioni dove questo è una base dove l'anti climate change lo scetticismo sta diventando una base elettorale importantissima abbiamo un problema perché davvero l'Europa al netto degli errori che citavo così è un avamposto allora quando come dire si politicamente si forza e si dice le banche devono ritirare i finanziamenti da chi usa il carbone quindi una grande banca italiana ritira il finanziamento a una migliore di carbone in Slovacchia e si trova una comunità di 300.000 persone che protesta contro perché la sua vita dipende la propria vita dipendeva da quello questo politicamente è un problema quindi io spero che chi fa propaganda in Europa chi chiede il voto in Europa in questo momento sottolinei moltissimo una nuova consapevolezza della delicatezza del problema sociale che viene con tutte le azioni straordinariamente importanti che l'Europa sta facendo grazie mille Chiara Lombardi a te la chiusura sì ma allora è una domanda è una domanda difficile nel senso che votare è una cosa fondamentale la cosa importante secondo me è ragionare su questi temi che di fatto sono stati messi sul tavolo oggi il tema del cambiamento climatico che non è più una domanda il cambiamento climatico c'è esiste è vero che interessa le nostre vite che le nostre vite rapportate alle vite dell'intero pianeta è sempre la difficoltà dell'essere umano di capire ma quello che io faccio oggi che cosa impatterà domani e stessa cosa vale per il voto assolutamente il fatto di votare delle persone che abbiano nella loro politica nella loro visione che tengano conto di queste due problematiche il problema del cambiamento climatico e le problematiche sociali sono le cose assolutamente essenziali su cui ragionare poi è chiaro esistono le distanze per me è difficile nel senso che io vivo e lavoro da ricercatore vivo nell'oceano e quindi per me io le distanze non le vedo quello che posso dire è di cercare di comprendere che queste distanze che ovviamente io racconto su quella che è la mia quella che è la mia esperienza naturalmente nell'ambiente marino ma è un'esperienza che si vive tutti i giorni anche in ambiente cittadino quindi l'impegno di ciascuno di noi se agevolato diciamo da una classe politica da una gestione politica che aiuta che migliora l'ambiente che migliora naturalmente questa diversità e problematiche sociali che ci sono permette chiaramente un miglioramento della vita in generale un miglioramento dei rapporti delle relazioni e e un miglioramento nella qualità della vita è un qualche cosa io faccio sempre l'esempio di quello che abbiamo vissuto durante il covid che sembrano passate ere in realtà è passato pochissimo tempo il fatto di vivere costretti di vivere separati di vivere rinchiusi in un ambiente domestico lontano dalla natura ha fatto sì che da una parte la natura riprendesse il suo spazio e quando noi abbiamo avuto la possibilità di uscire di casa soprattutto chi purtroppo è rimasto nelle grandi città e che quindi non ha avuto la possibilità di stare a viversi la campagna o stare a viversi il mare si è reso conto del beneficio che ne è derivato da questa cosa quindi anche percepire le emozioni le sensazioni quello che un rapporto con la natura ci dà in maniera diretta è quello che di fatto dovrebbe in qualche modo aiutarci a prendere le decisioni a scegliere a scegliere in maniera in maniera corretta in maniera coerente poi ecco fare un po' questo sforzo e pensare sempre che quello che può essere quello che noi pensiamo essere un vantaggio sul piccolo breve periodo in realtà non è detto che lo sia sul lungo periodo e quindi su un benessere generale sia a livello sociale che a livello naturale grazie mille 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 grazie mille